Nicolò De Maria è un'eccellenza gelese, musicista che reduce da una bellissima esperienza in Sud America, ma non solo, precedentemente anche in Europa. Sì, precedentemente sono stato a Vienna e ho avuto, secondo me, l'onore, un onore quasi mistico di suonare dentro la casa di Mozart, che sta proprio in centro a Vienna, via la Bosendorfer Saal, dove vi sono concerti quasi ogni giorno. È stata una bellissima esperienza suonare proprio nella casa dove Mozart è vissuto. Il giorno dopo, appena tornato da Vienna, sono partito per l'Argentina con un mio caro amico, collega, violinista, di origini argentine, dove abbiamo fatto un piccolo tour in Sud America. Abbiamo suonato a Buenos Aires, Baia Blanca, Nekocea, e da lì sono partite anche altre attività, come per esempio una masterclass, che mi è stata chiesta dopo aver eseguito un concerto in Baia Blanca. La tua carriera artistica è assolutamente in ascesa, ma non dimentichi le tue origini e spesso torni a Gela. Con un sogno nel cassetto. Finalmente da qualche anno abbiamo un teatro. Una cosa bellissima di cui si parlava poco fa sarebbe per esempio metter su un'orchestra stabile, un coro di coristi stabile, forse magari un corpo di ballo, e creare quello che è un team di professionisti, di musicisti, cantanti e ballerini che possono essere disponibili per la città. Comunque gli obiettivi prossimi, il primo è quello di continuare a studiare. Ho dei concerti in Svizzera, parto questo venerdì, e poi sono in programmazione alcuni concerti a Londra, Parigi e forse anche Brasile, quindi vediamo di organizzarli e speriamo bene. Se dovessi dare un consiglio a un giovane che si sta così stradando per la carriera da musicista, che consiglio daresti? Io darei il consiglio di iniziare a studiare il più possibile e il prima possibile, perché è una carriera difficile, lunga, ci vuole moltissima passione. Tutti siamo chiamati a studiare e prepararci con tenacia e con pazienza per anni per realizzare quelli che sono i nostri obiettivi al di là dell'ambito musicale e artistico.